Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Tiffany e oggi è arrivato il momento di fare il video dei preferiti che il mese scorso non ho fatto quindi aiuto perché ho un sacco di cose da raccontarvi quindi questo è un po' il video dei preferiti di ottobre-settembre tra l'altro oggi è il primo video che giro con gli occhiali nuovi e mi fa super strano, ci vorrà un po' per abituarci, sì tutti direi quindi insomma vabbè, bando alle cose frivole, partiamo come sapete tutti i miei preferiti partono ovviamente da quella che è la mia più grande passione ovvero la musica e in questi mesi sono uscite un sacco di cose belline ma ho anche, non so come dire, ripreso cose un po' vecchiotte perché ne sentivo un po' il bisogno direi che partiamo dal disco, anzi dai dischi di questi due mesi di settembre-ottobre allora parto da quello che sicuramente è il disco che ho ascoltato di più che mi ha fatto più piacere proprio vedere, ascoltare eccetera ovvero il nuovo disco di Any Other, Two Geography che è un disco che arriva dopo circa tre anni dal disco precedente che secondo me è un disco estremamente coraggioso perché nella scena indie italiana di adesso è un disco che secondo me prende tutto quello che sta andando di moda lo butta dalla finestra e dichiara di non fregarsene assolutamente un disco estremamente intimo e io adoro la sincerità di Adele che è ovviamente il volto dietro Any Other, dietro questo progetto perché c'è della rabbia ma c'è anche tanta consapevolezza perché Adele cosa fa? Praticamente mette il cuore su un piatto lo dà in passo al pubblico e se ne frega anche a costo di risultare ostinata, di risultare dura e soprattutto risulta emotivamente molto in subbuglio mai contenta, mai soddisfatta però quel tipo di insoddisfazione che io comprendo molto e che come è messa giù in questo disco secondo me è una resa pazzesca questo disco è un viaggio dentro un tema che è quello della geografia che in realtà è unicamente una scusa per parlare di sentimenti per parlare di emozioni e per parlare di tutto ciò che passa per la testa di una persona e dei propri pensieri troviamo una Adele che secondo me è molto in conflitto ma è assolutamente lucida in questo conflitto nelle sue sensazioni cioè le mette giù per fare ordine nel proprio spazio nella propria vita e le trasforma in tanzioni meravigliose dove c'è questa chitarra sempre molto rabbiosa sempre molto aggressiva e un piano costante che ci ricorda che tutto ciò ovviamente ha un senso circolare dentro il disco ovviamente è un disco che secondo me ha tantissimi echi tipo Hope Long, Courtney Barnett secondo me Courtney Barnett è proprio un riferimento che è imprescindibile ascoltando Any Other in generale e trovo che in questo momento sia un disco per nulla scontato questa cosa mi piace tantissimo è allo stesso tempo razionale ma anche reazionario perché mi sembra proprio un disco di quella che ha detto ok va sta roba qua a me non me ne frega niente di fare quella musica lì me ne frego e faccio quello che mi piace e io è un atteggiamento che stimerò sempre quindi brava Adele bellissimo disco non vedo l'ora di vederla no perché non la vedrò perché suona a Bologna l'8 dicembre ma io l'8 dicembre sono a Roma poi vabbè come non parlare dell'altro disco che ho ascoltato ovviamente tantissimo questo mese che è il nuovo disco dei 21 Pilots che loro sono un po' il mio guilty pleasure a me piacciono proprio tantissimo non vedo l'ora quelli li vedrò a febbraio non vedo proprio l'ora detto ciò a me è piaciuto molto meno dei dischi precedenti soprattutto rispetto a Vessel che è proprio il disco che mi piace di più perché lo trovo un po' statico un po' più piatto cioè in realtà ha degli echi molto più non voglio dire una cosa da eretica però mi sembra davvero che ci siano tanti elementi anche dal funk ci siano tanti elementi molto diversi molto eterogenei all'interno di questo libro si sperimenta disco, libro si sperimenta molto però secondo me è un po' più piattino mi aspettavo un po' qualcosa di nuovo da loro un po' stessa formula ripetuta detto ciò però è un disco che ho ascoltato tantissimo quindi cioè sono critiche che faccio a fronte di averlo ascoltato fino a vomitare praticamente questo disco mi piace non è che dico che non sia così i video che hanno girato in Islanda sono pazzeschi il singolo jumpsuit secondo me è una di quelle cose che ti entra in testa e se ne va dopo settimane eccetera eccetera sono felice di averli riascoltati e di averli finalmente ritrovati e non vedo ovviamente l'ora di vederli dal vivo anche se in due in un palazzetto con tutte quelle basi ho un po' di dubbi che suonerà una bologna e io non vedo l'ora sempre per i dischi di questi mesi cosa ho ascoltato tanto? ho ascoltato tantissimo un nuovo disco di Kurt Weill in questa modalità quasi country quasi cantautore country che ho amato cioè bellissimo e non potevo non ascoltare il nuovo di Ty Seagull che mi è piaciuto non mi è piaciuto alla follia devo essere sincera ma rimane uno dei miei artisti proprio di riferimento degli ultimi anni lo trovo uno di quelli che sperimenta tantissimo e fa quello che gli pare vederlo dal vivo è stato bellissimo è successo purtroppo ormai ben sei anni fa quindi sei o cinque per me sei ma probabilmente anche cinque comunque troppo tempo fa in ogni caso io lo trovo sempre ispirazionale lo trovo uno degli artisti più interessanti che esistano e quindi invece playlist e singoli non ho playlist questo mese ma ho ovviamente un sacco di singoli partiamo ovviamente dal pezzo che è piaciuto proprio di più dei 21 Pilots nuovo è Chlorine sarà che io sono fissata con questa parola dopo Chlorine di Perth che è il singolo del primo disco di Perth che è la mia artista italiana proprio preferita io sarò felice di nuovo solo quando uscirà il nuovo disco di Perth l'ho detto comunque Chlorine a me piace tantissimo è proprio il mio pezzo preferito del disco lo trovo il più diverso mescola, si ripete c'è un po' riprende qualche archetipo dei 21 Pilots ma lo rinnova allo stesso tempo e quindi mi piace moltissimo altro singolo che ho ascoltato tanto è Churchyard di Aurora è un'artista che a me piace tantissimo lei è bravissima qualsiasi cosa fa tocca, apre bocca e è magia è qualcosa di pazzesco Churchyard mi piace moltissimo me lo suggeriva Spotify ho scoperto che insomma sta per arrivare il nuovo disco ci sono cose nuove in ballo e quindi insomma curiosissima di ascoltare per bene anche tutto il resto la trovo un'artista rinfrescante proprio una delle cose più belle uscite nel pop degli ultimi anni e visto che vi dicevo che sono in tema anche di rivisitazioni di cose vecchie ho ascoltato tantissimo anche il disco dei Jaws e soprattutto c'è questo pezzo che io ascolto e poi per giorni non faccio altro che canticchiare e che averlo in testa cioè Just a Boy e niente cosa vuoi dire c'è pezzo bellissimo come il disco e quindi insomma niente ovviamente giù nell'infobox trovate i link a tutto perché insomma io sono qui per diffondere un po' di musica perché secondo me la gente ascolta troppo poca musica e questa è una roba che a me fa arrabbiare molto in ultimo sempre riguardando i siti è uscito il nuovo singolo di Soak che è Everybody Loves You e per me è stato anche strano ascoltarlo perché Soak io l'ho vista davvero cinque anni fa dal vivo per me è di quelle persone che non diresti mai che aprono bocca e tu dopo cioè dopo c'è il silenzio perché ha questa voce bellissima con la chitarra un po' improbabile anche forse tutto il suo essere ma una delicatezza una bellezza un'eleganza in quello che fa che per me è invidiabile da chiunque faccia musica e non so l'avevo lasciata mentre diceva Be a Nobody cioè renditi invisibile cioè il fatto di sentirsi spesso outsiders nel sentirsi spesso fuori perché non ci si conforma e ora la ritrovo con Everybody Loves You una canzone tra l'altro molto molto positiva e boh cioè sempre con quell'attitudine molto delicata molto elegante lei riesce anche a trasmetterti anche sentimenti positivi quindi sono estremamente felice di avere ritrovato un artista che per me è stata una delle migliori di quell'anno e quindi sono stra contenta di sentire anche il materiale nuovo penso che presto uscirà il disco quindi poi veniamo al concerto del mese cioè il concerto di questi due mesi che in realtà è il concerto dell'anno ragazzi se non il concerto della vita io per la prima volta il 18 di ottobre ho visto la mia band preferita io sono una fan degli Smashing Pumpkins da sempre fino a quando ho 8 9 anni cioè mio babbo testimone io giravo con Simon's Dreams e Melon Collie ovunque andavo in giro per casa e continuamente tutto il giorno ascoltavo i loro dischi perché per me sono la band che non so come dire ha racchiuso tante cose e detto ciò io li ho visti dal vivo per la primissima volta nella mia vita ero molto emozionata non pensavo sarebbe stato così bello pensavo che Billy Corgan non avrebbe mai retto un live del genere in questo momento forse anche che non avesse la voce a sufficienza appena attaccato primo pezzo primo pezzo che è partito disarm in acustico io ho iniziato a piangere e sono state tre ore perché sono state davvero tre ore dove io non ho fatto altro che zigare come una scusa zigare bolognese non ho fatto altro che piangere dall'inizio alla fine è stato bellissimo così bello non l'avrei mai creduto e ho capito anche tante cose cioè a livello di immaginare di tutto questo live io non amo i live negli spazi molto grandi io gli unici live che riesco veramente entrare molto in empatia sono quelli in locali grandi così dove ci stiamo in 300 al massimo perché c'è una distanza molto più accorciata con chi è sul palco a me i live troppo grandi non hanno mai gasato cioè li trovo proprio spersonalizzati così e io ero tipo lontanissima è stato comunque bellissimo vabbè è stato molto non so come dire a walk to remember cioè eravamo sul viale dei ricordi di tutto quello che per me è stato importante musicalmente dalla mia infanzia alla mia adolescenza e tutto quello che ne è venuto dopo ma anche visivamente è stato bellissimo curatissimo è stato davvero meraviglioso ho anche capito che se io fino a poco tempo fa ero convinta che il mio immaginario sia fotografico che artistico cioè io faccio un lavoro creativo in parte derivasse dagli smashing pumpkins ho capito che il 99% del mio immaginario deriva da loro e non pensavo che mi avessero davvero così penetrata cioè almeno non fino a questo punto dal punto di vista artistico e invece non lo so è stato bellissimo non so neanche come essere razionale in questa cosa io ho visto Billy Corgan che è sempre stato il mio grande amore so che voi direte ma non è possibile per me lo è stato cioè io lo volevo sposare quando ero piccola non lo so sentire proprio i miei pezzi preferiti cioè mayonnaise ho iniziato veramente una fontana non riuscivo bellissimo 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 pazzesco hanno fatto la cover di Space Oddity di David Bowie meraviglioso tutti questi questi giochi con tutto il loro immaginario che è veramente molto vasto e molto definito però per me è stato lo dico ancora una volta un'esperienza che così intensa in questo momento non credevo suonato bene cantato bene lunghissimo cioè hanno fatto veramente tutto quello che dovevano fare potevano anche soprassedere sul disco nuovo che tanto non ce ne frega niente è partita a zero ho visto la gente che si ammazzava nel pit bellissimo ok adesso mi calmo è passato e io il giorno dopo ho preso un treno alle 6 e 50 in condizioni pietose senza aver dormito perché ovviamente quando sono arrivata a casa ero così gasata così presa bene così felice che sembrava iniettata di qualsiasi sostanza stupefacente sono veramente super contenta non so neanche come metterla giù a parole senza ok sto sproloquiando sì ok avete capito concerto della vita no del mese di Smashing Pumpkins ok passiamo a film e serie tv allora serie tv vi devo dire una cosa vi devo dire una cosa ne ho viste in questo periodo ma qualcosa che mi abbia veramente presa eh ne ho parlato di Sabrina c'è un video a riguardo ve lo linko giù nell'info box anzi ve lo linko qua sopra perché ho imparato a fare questa cosa delle schede detto questo o questo vabbè ok e detto questo invece film che mi sono piaciuti nell'ultimo periodo sono diversi film e poi altro vabbè insomma il primo è perché è diventato anche il mio nuovo scioglilingua preferito The Gensei Literary and Potato Peel Society perché è una cosa che io ripeto continuamente e quindi è il mio nuovo veramente scioglilingua preferito adesso la smetto che è un film di Netflix che secondo me è stato carinissimo è confezionato molto bene un buon prodotto per gli amanti della lettura sicuramente estremamente giusto anche dal punto di vista storico carino eccetera tra l'altro io con Gernsey ho avuto dei rapporti di lavoro in precedenza quindi è stato particolare perché è un posto stranissimo è un posto isolatissimo quindi non so molto carino secondo me è stato molto valido mi ha fatto un gran piacere vederlo e ovviamente ve lo consiglio poi cosa ho visto ho recuperato Coco che ve lo dico come menzione speciale perché le lacrime che non ho pianto guardando Coco veramente è un colpo al cuore dopo l'altro un cartone bellissimo non credevo l'avevo cioè io non sono una grandissima fan dei lavori di animazione in generale soprattutto quelli Disney quelli Pixar questo mondo qua a me non ha mai attirato neanche quando ero io piccola quindi figuratevi bellissimo cioè proprio carino da amati proprio genuinamente carino che riflette anche su un tema particolare perché ce ne sono tanti ovviamente trovare se stesso trovare la propria strada fare i conti col passato cioè ci sono anche questi temi il tema però è anche quello dell'anzianità e di come si torni bambini perché purtroppo ci sono condizioni nella vecchiaia che purtroppo ti costringono a regredire ed è stato toccantissimo bellissimo anche perché chi l'ha vissuto questa esperienza penso che siamo in tanti ad aver avuto nonni o parenti anziani che insomma non sono più stati gli stessi insomma se avete vissuto questa esperienza sicuramente sapete quanto è toccante quindi bellissimo consigliatissimo sempre per il tema della gioia ovviamente e delle prese bene uno dei documentari che ho visto che mi ha più spezzato il cuore e mi ha proprio qua c'è un mega trigger warning perché quando lo vedete dovete essere in una modalità in cui siete preparati ovvero City of Joy che trovate su Netflix City of Joy è un documentario che parla di questo centro di aiuto e recupero da cui prende il nome il titolo del documentario infatti si chiama City of Joy e si trova in Congo è un'istituzione che cerca di dare una nuova vita un percorso e ovviamente accogliere tantissime donne che sono state abusate violentate che hanno subito le peggiori atrocità che l'umanità è in grado di commettere e che sono rimaste spesso mutilate in una zona che è fortemente in guerra anche se non è dichiaratamente in guerra è in mano alle milizie armate cioè nel documentario lo spiegano davvero molto bene la situazione ovviamente il Congo è in mano alle milizie che come proprio metodo coercitivo metodo per spaventare la popolazione per appropriarsi delle zone ad esempio più ricche dove ci sono diamanti dove ci sono risorse naturali e non solo adotta come metodo proprio di violenza l'aggressione a tutte le donne infatti si parla di una stima del più del 95% della popolazione femminile che ha subito violenze e è veramente un documentario non so come dire pesante ma pesante nel senso che si affrontano tematiche che ovviamente ti spezzano il cuore e ti fanno veramente riconsiderare tante questioni che noi affrontiamo quotidiano non posso entrare nel politico più di tanto perché sennò poi mi trovo i commenti sotto che mi rompono le balle detto ciò piccolo disclaimer le storie che sentirete sono atroci sono veramente qualcosa che digerirete molto a fatica sono espliciti ci sono dei racconti ci sono dei medici cioè c'è il medico che gestisce questo istituto che racconta con una naturalezza disarmante episodi che sono per me inaccettabili inconcepibili anche nella loro brutalità perché per loro è diventato proprio qualcosa di quotidiano però ovviamente la cosa bella e positivissima di questo documentario che vi consiglio nonostante sia veramente una mazzata allo stomaco è che da un segnale positivo ci sono esperienze che cercano di portare qualcosa di positivo di migliorare la qualità della vita di tante persone di dare supporto e promuovere un ambiente che ha sicuramente tutt'altra caratura rispetto a quello che c'è al di fuori e che ovviamente cerca di dare anche una linea guida un supporto a tutte queste donne a queste famiglie e per me questa è proprio una storia di rinascita di comunità di supporto e di quanto la progettualità sia indispensabile per rinascere soprattutto in contesti così difficili perché se c'è una cosa che è difficile da trovare non è sicuramente la disperazione ma è la speranza e una visione del futuro e in questo caso secondo me questo documentario c'entra pieno l'obiettivo è veramente straziante ma molto molto interessante io ve lo suggerisco tantissimo fatelo magari dopo aver preso un paio di goccine ecco poi sempre riguardando programmi che in realtà non hanno a che fare con il web ma con la tv è ricominciato Propaganda Live che è l'unico programma che io seguo è sulla 7 per me è il programma più divertente interessante politicamente affascinante che esiste tantissimi reportage c'è tantissimi ospiti insomma si parla di attualità ovviamente con un occhio molto schierato sappiatelo non partite già cioè bisogna che sapete quello di cui si parla e a me piace tantissimo lo seguo dall'anno scorso perché io prima non seguivo Gazebo e per me Propaganda Live è l'appuntamento immancabile anche quando lo devo recuperare c'è tutto in streaming quindi se andate sul sito di La 7 recuperate tutte le puntate io ve lo ovviamente consiglio sono contentissima che sia ricominciato tra l'altro la settimana scorsa cioè venerdì scorso hanno fatto un bellissimo servizio sulle zone colpite dall'alluvione nel Bellunese partendo da Feltre arrivando vicino a Cortina insomma estremamente estremamente interessante che alterna a toni molto divertenti a toni veramente molto più seri cerca di spiegare un po' la situazione settimanale parla anche di social per me è un programma estremamente interessante che vi consiglio poi visto che ci stavo ragionando da un po' su questa cosa però non ho tante cose a suggerirvi dal punto di vista frivolezze che arriveranno dopo quindi volevo suggerirvi due cose che per me sono state imprescindibili in questi due mesi di Youtube ovvero due canali il primo è quello di Natalie Osman che ovviamente vi linko anche giù Natalie Osman è una delle due menti forse più il volto che la mente in realtà del progetto Follow Me Too che è quel progetto dove c'è sempre la ragazza che si vede di spalle venuta per mano dal fotografo che la ritrae in paesaggi pazzeschi adesso magari in sovraimpressione vi faccio passare qualche foto così riconducete un pochino a che cosa si sta dicendo comunque lei e il marito Murad hanno da 3-4 anni fatto iniziare questo progetto che è sia fotografico che videografico infatti fanno questi reportage bellissimi in posti pazzeschi con una qualità di video di organizzazione di cura dei particolari dei dettagli con una produzione davvero molto intensa adesso cioè si nota la produzione dietro che per me sono tra i progetti di reportage turistico e non solo più belli degli ultimi anni hanno fatto un lavoro pazzesco e mentre sul canale di Murad e di Follow Me Too ovviamente trovate tutti questi reportage bellissimi hanno una qualità video pazzesca Natalie fa i vlog di questi viaggi alterna questa immagine bellissima ripresa dai loro droni e dalle loro camere con il racconto che fa lei di tutti questi viaggi pazzeschi e vediamo un po' il backstage di questi viaggi spettacolari di quello che succede dietro le quinte per me sono stati interessantissimi li ho seguiti con grande piacere ce n'è uno sul Dagestan che è il luogo dal quale proviene Murad che è suo marito che per me io ci voglio andare assolutamente devo trovare il modo di andarci una regione remota ma voglio andarci assolutamente detto questo è tutto il russo con i sottotitoli in inglese quindi se non amate particolarmente questo tipo di narrazione vi risulterà difficile però vi consiglio assolutamente di darci un'occhiata perché i suoi vlog sono bellissimi non ovviamente comparabili con tutto il progetto che gestiscono ma per me ti danno quello sguardo un po' più reale anche per farti capire cosa succede mentre stanno girando come organizzano il viaggio come arrivano come gestiscono i posti che mi ha molto fatto rivalutare tutto l'intero progetto e anche la figura di Natalie che la vedevo molto come solo fashionista perché sul suo Instagram è tutto molto fashion e a me interessa il giusto in realtà è una sbregaz come diremmo qua a Bologna quindi questa cosa mi è piaciuta molto l'altro canale che vi consiglio è quello di Broadly che magari per tanti di voi dirà sì ok conoscevo già bene Broadly è un canale che è nel network device per dire e ha come obiettivo quello di rappresentare la molteplicità delle esperienze femminili che secondo me è già un obiettivo molto molto pretenzioso però che loro secondo me riescono a fare molto bene perché cercano a 360 gradi di andare a raccontare cose sia sul nostro mondo quotidiano sia con reportage sia con interviste insomma è davvero molto interessante lo seguo da un paio d'anni e devo dire che in questi due mesi ha ritirato fuori i contenuti che me l'hanno fatto molto anche mi hanno riavvicinata molto a questo canale perché hanno esplorato diverse aree hanno ovviamente affrontato il tema delle elezioni americane hanno intervistato soggetti femminili per la maggior parte ma non solo che hanno però ovviamente visioni diverse non si sono concentrati solo sul partito democratico hanno affrontato i problemi di entrambi i partiti hanno intervistato giovanissimi candidati alle elezioni americane spiegandone un po' i limiti e le difficoltà su alcune tematiche interviste secondo me molto valide poi hanno intervistato un attore trans che semplicemente dava delle linee guide sull'uso dei pronomi che lo trovo un video utilissimo e sempre attuale sempre fresco hanno intervistato una ragazza new yorkese che si è posta come obiettivo di vita allo zero waste e fa vedere come tutti gli aspetti della vita possono essere davvero a impatto ambientale zero o quasi zero e per me è stato molto interessante ecco quello è un estremo che io non potrei mai raggiungere nella mia vita ma sicuramente mi ha dato delle linee guida che mi hanno aiutato anche solo nel quotidiano in piccolissime cose e poi il più bello secondo me di questi mesi hanno fatto questo reportage dalla Romania dove loro erano già stati due anni fa se non erro perché praticamente l'occasione era il matrimonio del figlio di questa strega Romani la più grande potente strega della Romania che si sposava per questo matrimonio combinato e quindi c'è tutta questa esplorazione di questo mondo che per me è affascinantissimo assurdo ovviamente assurdo però estremamente affascinante cioè fanno queste cose che secondo me sono molto attuali ma anche esplorano realtà lontane da noi realtà vicine a noi insomma secondo me è un canale molto riuscito che vi consiglio è arrivato il momento del libro del mese allora i libri del mese sono due fondamentalmente uno è come fermare il tempo di Matt Haig vi metto qui e sotto il video dove ve ne parlo in profondità diciamo che per me è stato un libro che sicuramente non è stato una grande novità ecco quello no però è un libro dove io mi sono sentita capita in qualche modo nelle mie difficoltà nelle mie ansie e con ansie intendo la mia patologia dell'ansia è un libro che mi ha fatta sentire capita un libro che ha secondo me rappresentato molto bene questo aspetto cioè dei difetti per l'amore del cielo eccetera però è un libro che a me ha proprio conquistato perché mi ha trasmesso cose che secondo me sono molto rilevanti per chi come me soffre di ansia e non solo l'altro libro del mese ve ne parlo nel wrap up è non stancarti di andare che in realtà è una graphic novel di Teresa Radice e Stefano Turconi bellissimo cioè bellissima proprio graphic novel definitiva bellissima il modo in cui esplora tutti gli argomenti per me è pazzesca ve ne parlo meglio nel wrap up perché qua ho troppo poco tempo comunque questi sono i miei due titoli che vi consiglio assolutamente l'evento di questi mesi di questi due mesi io ci ho pesato un'altra parte concerti che vi ho già detto eccetera è sicuramente la fiera sana io quest'anno sono tornata al sana dopo due anni che non ci andavo e l'ho trovata ingigantita perché non lo sapesse il sana è la fiera che si occupa ovviamente di tutto il mondo bio e non solo mentre di solito è sempre stata molto concentrata sul cibo soprattutto sul cibo sulle coltivazioni e l'aspetto diciamo nutrizionale della cultura ecobionaturale quest'anno invece aveva un padiglione interamente due padiglioni scusatemi interamente dedicati al beauty cosa che non accade cioè mai perché infatti effettivamente il mondo ecobionaturale dal punto di vista del make up si è espanso in maniera clamorosa e per me è stata una fiera davvero molto bella perché ho trovato nuove marche ho esplorato ho fatto un sacco di acquisti mi hanno regalato tantissimi campioncini sono state super super interessanti tra l'altro ogni stand soprattutto quelli più piccoli è chiaro che ci sono aziende molto grandi che sono tra l'altro ecobionaturali ma non al 100% invece altre che lo sono al 100% fermandosi a chiacchierarti danno dei consigli ti spiegano come funziona la cotta ti fanno vedere l'inci ti spiegano tutto quello che stai leggendo da dove deriva le differenze tra le varie cose come inquinare meno dei consigli degli ecotips che io infatti adesso nascerà questa famosa rubrica perché non la posso fare solo su instagram comunque insomma secondo me è assolutamente una fiera che è migliorata tantissimo negli anni e che si è resa molto attuale molto interessante infatti l'anno prossimo io ho già punto ad andarci invece venendo al beauty venendo a tutte queste questioni un po' più frivoli vestiti eccetera eccetera allora devo dire che beauty ho fatto molti acquisti a inizio novembre ma meno a ottobre diciamo che sto in generale cercando di acquistare molto meno era tantissimo e sono stata bravissima in questo mi do veramente la pacchetta sulla spalla che non acquistavo vestiti da quasi metà luglio e per me vuol dire tanto perché sono sempre stata per l'acquisto almeno una o due cose al mese invece era da luglio che non acquistavo vestiti perché comunque insomma sto cercando proprio di rivalutare il mio consumo il mio acquisto compulsivo eccetera eccetera non che non cioè tenendo poi conto ovviamente di quelle che sono le mie necessità eccetera come tutti dopo tanto tempo ovviamente mi sono da è uscita la collezione nuova di carolina m che mi vedete indossare e della quale vi metterò anche una foto eccetera ho fatto questi due acquisti è una ragazza che ha un negozetto handmade che fa tutto lei e ogni tot fa uscire una collezione ispirata a un tema particolare in questo caso è ispirata alle first aid kit che io vidi nel lontano 2007 in Svezia mentre loro avevano 16 anni e io ne avevo 18 ok ed erano piccoline ed erano bravissime già allora e invece poi sono diventate tipo delle giganti del country hanno questo stile super definito super strano cioè è molto strano per me rivederle ora detto ciò ha fatto una linea che secondo me è pazzesca è bellissima io per ora ho preso solo questo maglioncino in lana che tiene molto caldo ma è molto leggero ed è un crop infatti arriva solo e unicamente fino alla sopra l'ombelico e poi questa gonna che per me è molto strano averla acquistata primo per il colore poi perché ha una fantasia ed è tutto ciò che di solito a me non piace però in realtà è molto carina è molto morbida è molto non so la sto adorando la sto mettendo spessissimo e quindi niente sono super felice dei miei acquisti è un negozio che vi consiglio assolutamente perché tutte le sue cose sono fatte veramente con estrema cura tra l'altro è disponibilissima se volete accorciare ad esempio la gonna questa arrivava alle caviglie ma io con le gonne lunghe sono un metro e un tappo quindi faccio un po' ride e me l'ha accorciata mi ha aggiunto le asoline per la cintura insomma è estremamente disponibile carina carolina quindi è un negozio che vi consiglio e se dovete insomma adesso questa è un po' la mia filosofia però vi invito un attimo a pensare ai vostri acquisti hanno dei prezzi ovviamente un po' maggiorati rispetto al fast fashion però sappiate che state dando i vostri soldi in acquisti che vi dureranno nel tempo che sono confezionati su misura per voi e che supportano una piccola creatrice insomma è un valore che io cerco sempre di sostenere che mi piace sostenere ovviamente non sono stata pagata anzi ho pagato tutto quello che ho acquistato quindi ve lo sto dicendo solo perché ci credo molto io in questa cosa supportare i piccoli creatori i piccoli artigiani secondo me è un valore molto importante detto ciò direi che siamo arrivati alla fine del preferiti perché non ho altri grandi acquisti da farvi vedere quindi niente fatemi sapere se tra tutto quello che vi ho elencato c'è qualcosa che vi interessa ovviamente se ascoltate qualcuno dei dischi che vi ho suggerito oppure vedete qualche film del quale vi ho parlato insomma fatemelo sapere così sono molto curiosa e niente io direi che come solito giù nell'info box trovate tutti i link di affiliazione i miei vari social contatti social eccetera eccetera e non dimenticatevi mai che dovete iscrivervi al canale ed attivare la campanellina e mettere un pollicino in alto se il video vi è piaciuto io come sempre spero di avervi tenuto compagnia e vi ringrazio tanto per aver trascorso un po' di tempo insieme a me se non muoio direi che ci vediamo al prossimo video ciao